Non temiate la tecnologia, l'innovazione e il cambiamento, perché sono sempre forieri di miglioramenti. Ho deciso di lanciare il progetto Trackit per utilizzare la tecnologia blockchain a servizio delle aziende che desiderino tracciare uno o più passaggi della propria filiera produttiva. Costruiscono dei mondi virtuali dove lo spettatore entra in pianeti, in mondi. Anche sui social che sono nati e esplosi tutto un botto, secondo me si sente la mancanza di un'educazione al social. Grazie